non believe me just watch lo sfottò alla Lazio perché io mi sono dovuto subire una settimana la rottura dei coglioni dei tantissimi tifosi della Lazio che rompevano le palle con sta finale in faccia avete vinto avete meritato alla fine il passaggio perché come che cazzo è successo qua dicevo avete meritato alla fine dei passaggi in finale di Coppa Italia ma c'è modo in modo io sono tipo di persona che quando per esempio la Roma batte la Lazio non mi metto a andare dai Lazio a dire perché sei scarso però sinceramente mi dà fastidio chi lo fa con me quando la Roma alla fine ha meritato di uscire dalla Coppa Italia ho salutato non mi ricordo ciao bella a tutti la cabona beh siamo tornati in questo nuovo video ovviamente parliamo appunto della sconfitta per 3 a 0 della Lazio e torniamo seri perché comunque sia il Napoli ha si fatto una bella partita secondo me per 70 minuti ma poi la Lazio alla lunga è uscita fuori e purtroppo scoprendo si ha preso altre due reti cerchiamo di riavvolgere il nastro della partita perché secondo me Inzaghi ha sbagliato l'atteggiamento tu non puoi presentarti a giocare con la Roma con un tipo di gioco poi vai a giocare contro il Napoli e praticamente fai lo stesso tipo di gioco perché il Napoli è una squadra che ha dimostrato contro la Juventus per lunghi tratti di poter fare un pressing di quelli esagerati che non ti consente di uscire palla al piede ed è stato proprio quello il problema secondo me questa sera perché la Lazio soprattutto nei primi minuti non è riuscita a prendere le misure a Napoli poi è vero che per un certo tratto della partita era riuscita è come a prendergli le misure ed è riuscita più di qualche volta volta scusate parliamo italiano a ripartire in contropiede però ragazzi non è bastato perché alla fine il Napoli passa in vantaggio 1-0 diciamo che la partita come vi ripeto fino al settantesimo è stata abbastanza meritata dal Napoli perché insomma è arrivato anche il 2-0 al cinquantesimo ha fatto prima gol Gajeon poi ha fatto gol in signe poi il terzo gol l'ha fatto comunque in signe ma fino al sessantottesimo settantesimo mi ricordo c'è stato un tiro di Amsic dalla distanza e il Napoli lì ha cominciato a mollare la presa ma comunque ragazzi aveva fatto 70 minuti di pressing aspissiante dopo di che la Lazio comincia a uscire fuori crea qualche bella occasione da rete ma purtroppo non è bastato perché appunto il Napoli aveva già accumulato un buon margine e poi è riuscito anche a fare il terzo gol spero che sia da lezione a tutti quelli che fanno sempre sti sfottop e me lo sfottò è pure carino ma fino a un certo punto poi si diventa pesanti soprattutto perché comunque l'ultima volta abbiamo vinto 3-2 sì siamo usciti da Coppa Italia ma insomma ne hanno fatta una storia lunga come se avessero veramente vinto la Coppa Italia poi bisogna vedere perché è capace che vai a giocare con la Juve e se giochi come hai giocato stasera probabilmente non la vinci io mi auguro che la vincano loro e ve lo dico da tifoso della Roma perché mi sono rotto il cazzo di vedere la Juventus che si prende tutto in Italia Coppa Italia Supercoppa Superporca Scudetto mi piacerebbe vedere che vince un'altra squadra visto che c'è la Lazio preferirei che lo vincesse la Lazio però deve meritare di vincerla detto questo io non mi dilungo più di tanto ragazzi miei lascio a voi nei commenti la possibilità di farmi sapere che partita avete visto ritorniamo seri mi raccomando non fate gli sfottop che palle costi a parte che oggi penso che i tifosi da Lazio abbiano poco da sfottare ai romanisti perché insomma con sta sconfitta che alla fine secondo me è anche abbastanza bugiarda perché comunque secondo me doveva vincere 2-1 il Napoli parliamoci chiaro ma sempre dei vittori del Napoli stiamo a parlare quindi fatemi sapere che ne pensate nei commenti commentate condividete iscrivetevi al canale vi do una piccola anticipazione per domani live reaction di Bologna-Roma dovrebbero arrivare i pronostici no dovrebbero arriveranno i pronostici di Champions League la sera probabilmente arriverà il pronostico di Juventus-Barcellona pronostico gameplay fatto con mio fratello mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale ci vediamo presto un nuovo video bella parlo troppo che cazzo sta succedendo vabbè ciao ciao